Buona la prima. All'esordio in campionato al Palabanca, Normeccanica Rebecki Volley schianta senza appello Montichiari, in poco più di un'ora e in tre set. Anche senza Capitan Leggeri, fuori per infortunio, la squadra di Chiappini ha dimostrato un'ottima sintonia, con una Vanèche da favola, 19 punti, e una Dirix in gran scioltezza. 25 a 13, 25 a 17, 25 a 14 il punteggio. Un bel esordio perché comunque era, anche se abbiamo già giocato una partita importante, comunque era la prima in casa, all'inizio del campionato, una squadra temibile perché comunque è una squadra da rispettare. Io penso che siamo stati molto ordinati, abbiamo avuto un attimo di buco il secondo set, ma per il resto le ragazze hanno giocato una partita molto ordinata, disciplinata, abbiamo lavorato molto bene in difesa, anche in attacco a momenti per cui è stata, penso, un'ottima prestazione. Abbiamo giocato bene, battuto bene, lavorato bene in muro difesa, quindi possiamo essere contente. Come hai visto gli avversari? Secondo me hanno sbagliato magari un po' troppo, magari volevano sforzare un po', forse era il nostro merito che abbiamo toccato tanto a muro. Come si sta formando il gruppo, visto che è stata un po' rivoluzionata la squadra quest'anno? Stiamo imparando a conoscerci e a mettere in campo tutte le stesse regole, quindi piano piano sicuramente si vedrà un gioco più omogeneo. In aver iniziato, aver iniziato con 3-0, considerando che comunque abbiamo sempre una squadra completamente rinnovata rispetto all'anno scorso, ci dà sicuramente un buon auspicio per il campionato, per le prossime partite. Come si stanno organizzando i Pink Wolf per questo campionato? I Pink Wolf sono sempre pronti per seguire la squadra ovunque, qua al Palabank ovviamente, qualunque trasferta in giro per l'Italia e per l'Europa, anche per la Champions, sperando di andare avanti anche in Europa.